Il progetto Il Tiziano Mai Visto è una grande mostra, un grande progetto soprattutto dal punto di vista scientifico ma che lascerà a bocca aperta molti visitatori per la qualità straordinaria delle opere riunite. Devo dire che come direttore della Fondazione Civici Musei e come fondazione abbiamo dato grande sostegno a questo progetto lavorando in partnership pensando anche che Venezia abbia bisogno di riunire sempre di più le forze culturali e intellettuali che ci lavorano e quindi cercando di avere una rete sempre più forte. Condividere i progetti significa fare di più, dare di più al pubblico e soprattutto avere dei livelli di ricerca sempre più elevati. Dal punto di vista quindi delle collaborazioni anche per il 2013 anno della Biennale dell'Arte lavoreremo insieme per molti progetti, lavoreremo con le istituzioni cittadine, lavoreremo con molte istituzioni internazionali perché il compito della Fondazione è quello di ricevere ma anche di portare molte attività, molte iniziative verso l'estero quindi non solo importare ma anche esportare e in questo la collaborazione con istituzioni come la sovrintendenza è una collaborazione che noi riteniamo strategica.